Ciao a tutti, sono Claudio Marletto, formatore e consulente aziendale e oggi sono in Skilllab per un interessante, spero per i miei discenti, corso sulla ISO 9001-2015. Ci stiamo confrontando per approfondire come funziona il sistema qualità di queste imprese e di queste aziende e cercare di capire le novità normative. Ovviamente l'obiettivo è quello di migliorare, migliorare tutte le nostre attività per far sì di ottenere dei risultati migliori. Spero di trovarvi presto anche voi qua da Skilllab.